Allora, video a 320, quindi una qualità velocissima da caricare su internet quindi vediamo se è un compromesso troppo basso caricare i video a 320 sono sempre per l'alta qualità, lo sapete e allora adesso vi faccio vedere però i dettagli di come voglio girare con questa camera quando non è attaccata a roba tipo GoPro allora, con questo bastoncino qua, vedete il bastoncino? Sì, questo è un bastoncino, qui sotto c'è un treppiede quindi io in qualsiasi momento posso trasformare in un cavalletto questa macchina fotografica va bene, quindi il costo del treppiede è una ventina di euro un po' il treppiede è buono, è metallo, è pesa e il costo del bastoncino, dipende da dove lo comprate, diciamo dai 15 ai 30 euro più o meno, all'incirca qui è regolabile se abita la macchina fotografica come poterlo usare per la stabilizzazione? beh, già tenere in mano così stabilizza molto cioè il fatto di tenere così invece di tenere con le dita così questo già stabilizza tanto potete camminare con la macchina orizzontale la macchina verso il basso quindi potete fare delle inquadrature che normalmente non si possono fare potete dall'alto puntando verso il basso adesso chiaramente io ve lo metto così, voi capite? cioè girando così posso andare sopra la testa e quindi faccio dei spettacoli in tutti i modi poi c'è un metodo, è proprio una tecnica per stabilizzare durante la corsa, durante il movimento come se ci avesse una steady cam e è questo allora innanzitutto i due secondi e mezzo ecco qui è troppo veloce, va preso più giù uno, due e mezzo quindi all'incirca beccate il baricentro in cui la telecamera ritorna in piedi con due secondi e mezzo quindi non deve essere a metà ma deve essere in modo che la telecamera torna in piedi ma lenta a metà a questo punto tenendo con due dita voi potete muovervi avanti e dietro di avere una stabilizzazione dovuta al peso quindi potete anche ruotare e però sempre con due dita con un gioco così di due dita voi riuscite a muovere avanti e dietro mantenendo una certa stabilizzazione un certo ondeggiare fluido e quindi avete una struttura estremamente leggera estremamente pratica per fare inquadratura che normalmente non potreste fare quindi va allungate avete lo stabilizzatore avete il treppiedi, tutto e un pulsantino prendete e caricate immediatamente perché questa che sto usando è tento di inquadrarla prendersi a fuoco nello specchio non è mai facile vediamo un po' se riesco in qualche modo è la Samsung Galaxy Camera non vi posso far vedere con questa camera il retro il retro è un vero e proprio cellulare Android quindi se voi avete visto un cellulare Android dietro è esattamente un cellulare Android quindi potete mettere YouTube, Ustream, Carica una macchina fotografica è come se fosse del cellulare solo che c'è la capacità di avere il grand'angolo e la capacità di avere lo zoom lo zoom anche molto chiaramente poi vedendo lo specchio la messa a fuoco potrebbe non farla bene ecco zoom molto la messa a fuoco sicuramente lo specchio non lo fa perché rimbalzano quindi non riuscite a vedere immagini messe a fuoco per quello che mi interessa a me lo zoom non mi interessa niente invece il grand'angolo mi interessa il fatto che allarghi già a 23 mi interessa molto perché l'ho comprato queste e non altre perché è il miglior rapporto qualità prezzo costava mi sembra 500 e passa euro quando è uscita due anni fa adesso costa io l'ho pagata 2,20 però su internet addirittura sta anche più basso se uno invece del negozio reale la vuole comprare su internet si può scendere anche sotto i 2,20 e al momento al momento c'ha le caratteristiche so altre macchine più grandi più professionali però questa è estremamente compatta quando la metti in tasca è poco più di un cellulare cioè come avevi due cellulare in tasca però però insomma ti dà dei vantaggi che i cellulari non hanno sicuramente cioè soprattutto soprattutto il grand'angolo soprattutto il grand'angolo e anche l'impugnatura e l'immediatezza perché stavi spingendo un pulsante il pulsantino che è qui sopra tu in qualsiasi condizione stai anche se stai a vedere prendi e scatta la fotografia anche se stai a vedere Android quindi è proprio immediato fisicamente il pulsantino il pulsantino di scatto e quindi c'hai anche questo vantaggio questo vantaggio della fisicità c'hai il vantaggio di averci l'attacco per il cavalletto che permetta ad esempio questa cosa che col cellulare risulterebbe complicato avere questa impostazione più da battaglia e poi c'hai una macchina fotografica quasi vera e propria insomma buonina e che però come spingi il pulsante sei su YouTube immediatamente adesso interrompo siccome sto video è solo a 3,20 io dico via carica su YouTube e questa prende carica su YouTube quindi questa è stata la mia scelta la mia scelta sia perché era economica sia perché era compatta sia perché era al grand'angolo è diventata economica era nata cara oltre 500 euro mi sembra va bene adesso a 3,20 voi vedete quanto ci mette a caricarlo sicuramente un nanosecondo perché si è abituato a caricare video in HD o full HD quindi a 3,20 credo ci metteranno un flash a 3,20